L'adozione di un bambino si realizza attraverso un percorso complesso e dai tempi lunghi, che però in Toscana è supportato sia da servizi pubblici e gratuiti come i centri per l'informazione e la preparazione all'adozione che da contributi economici stanziati dalla regione. Ma prima di entrare nei dettagli vediamo qualche dato. In Toscana nel 2012 sono stati adottati 410 bambini, di cui 388 tramite adozione internazionale, con unità media intorno ai 5 anni. Generalmente le coppie fanno domanda per entrambi i tipi di adozione, ma quelle internazionali sono più numerose perché in proporzione il numero di bambini adottabili è molto più elevato. Nei primi sei mesi del 2013 le famiglie italiane che hanno richiesto l'ingresso di un minore straniero per adottarlo sono state 1043 e di queste 118 risiedono in Toscana, seconda regione per adozioni in Italia dopo la Lombardia. L'80% dei futuri genitori non ha figli e l'età media è 40 anni. Sempre nei primi sei mesi di quest'anno in Italia i bambini stranieri adottati sono stati 1300 e di questi 152 in Toscana. Il 45% ha un'età compresa tra i 5 e i 9 anni. I bambini adottati sono in numero maggiore rispetto alle coppie perché molte famiglie hanno adottato più di un bambino per volta e in genere si tratta di fratellini. Negli ultimi anni la crisi economica ha ridotto il numero di domande di adozione ma in Toscana questo è avvenuto in misura minore rispetto alle altre regioni anche grazie al lavoro di supporto svolto dai servizi territoriali e dagli enti autorizzati al disbrigo delle pratiche richieste dai paesi stranieri che in Toscana sono 40 di cui 19 con sede nel territorio regionale e firmatarie di un protocollo con la regione per la formazione delle coppie di futuri genitori. Il primo servizio a cui rivolgersi comunque sono i centri per l'adozione nati da un accordo fra regione, comuni e aziende sanitarie locali. In Toscana sono quattro e si trovano a Firenze, Pisa, Prato e Siena in pratica uno per area basta. Qui le coppie possono incontrare personale qualificato e raccogliere le informazioni necessarie per fare una scelta consapevole. Si comincia con un colloquio con un assistente sociale a cui segue un corso di cinque incontri a cui partecipano sette o ad otto coppie per volta. Un primo incontro centrato sul percorso burocratico e sulla legislazione un secondo incontro sulla genitorialità adottiva un terzo sulla filiazione adottiva un quarto sull'inserimento nella società più estesa e poi un quinto incontro al quale partecipano alcuni rappresentanti degli enti autorizzati ovvero sia degli enti che faranno da ponte nel successivo percorso adottivo con l'autorità straniera. Dopo il corso la coppia deve presentare domanda di donetà al Tribunale per i minori che a sua volta la gira ai servizi territoriali. A quel punto le assistenti sociali e gli psicologi fanno un percorso con la coppia e redigeranno delle relazioni che invieranno al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni a sua volta farà un colloquio diretto con la coppia tramite un giudice onorario e a quel punto il Tribunale con le relazioni del servizio sociale, del servizio di psicologia e il verbale redatto dal giudice onorario del Tribunale per i minorenni emette decreto di idoneità. I tempi sono circa dieci mesi. A quel punto la coppia ha un anno di tempo per dare mandato ad un ente autorizzato di predisporre le pratiche per l'adozione richieste dai paesi stranieri. L'ente assieme alla coppia definisce il paese all'interno del quale la coppia andrà adottare e invierà a quel paese tutto il dossier che quel paese secondo le proprie leggi vuole. Quindi integrerà il dossier con tutti i documenti e la documentazione che a quel paese interessa. A quel punto si attende che quel paese scelga quella coppia per quel bambino. Lo comunica all'ente. L'ente autorizzato chiede alla coppia se accetta la proposta che ha fatto l'autorità straniera. Se la coppia accetta comincia l'iter per recarsi in quel paese, soggiornare in quel paese per un periodo di tempo che decide il paese stesso, che può variare dai 15 giorni ai due mesi, per dirla così approssimativamente ma per dare bene l'idea. E a quel punto la famiglia torna in Italia con il bambino. Quanto tempo è passato di media? In media varia veramente molto da paese a paese, ma in media diciamo circa tre anni. Ad esempio per adottare un bambino in India o Vietnam ci vogliono quattro anni, in Ucraina due anni e otto mesi. Il supporto alla famiglia adottiva continua comunque anche dopo l'adozione. Ci sono i servizi territoriali che restano sempre comunque disponibili nel caso si presentino delle difficoltà in qualche modo. In più noi come centro adozioni chiamiamo le coppie in modo da ricevere da loro un racconto del percorso che in qualche modo hanno fatto fino all'arrivo del bambino, quindi per avere noi stessi una sorta di follow up. Dall'altro per offrire loro la partecipazione ai gruppi. Noi abbiamo, nel Comune di Firenze in particolare, quattro gruppi post adozione attili. Nel senso sono gruppi formati da coppie, gestite da un facilitatore o due solitamente assistenti sociali e psicologo in co-conduzione, gruppi all'interno dei quali le coppie possono scambiarsi i percorsi di vita che stanno facendo e quindi insieme crescere e essere supportate con l'aiuto reciproco. Ma dopo aver adottato un bambino si può tornare indietro? Ci si può ripensare? Diciamo che dal momento in cui si accetta quel bambino non ci si può più ripensare, nel senso che una volta che si arriva in Italia il bambino è a tutti gli effetti figlio come tutti gli altri figli e quindi rinunciare a quel punto significa rinunciare a un proprio figlio. Quindi non si può rinunciare. In tutto questo percorso la Regione Toscana svolge un duplice ruolo, come spiega Grazia Sestini, garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organo istituito dal Consiglio regionale per promuovere, salvaguardare e tutelare i diritti di bambini e ragazzi. Da una parte quello di fungere come soggetto principe del coordinamento delle procedure tra gli enti presenti all'interno della Regione con un protocollo d'intesa tra le amministrazioni, i centri adozione e gli enti autorizzati per fornire la maggiore omogeneità possibile al percorso adottivo per il bene degli operatori e soprattutto per il bene delle famiglie che incontrano questi servizi. Ma la Regione supporta le famiglie adottive anche economicamente. L'adozione internazionale ha costi elevati che variano a seconda dell'ente che disbriga le pratiche all'estero oppure del paese di origine del bambino. Ci sono paesi che non vogliono costi per l'adozione, ci sono paesi invece che impongono anche delle tasse rispetto a questo e sono più o meno alti rispetto al paese. E poi c'è il viaggio e il soggiorno, un conto è andare in un paese vicino e soggiornarvi per un breve periodo, un conto è andare in un paese lontano e soggiornarvi per un lungo periodo. Si parla quindi di cifre variabili da 10.000 a 25.000 euro e qui entra in gioco la Regione. La nostra Regione non è l'unica in Italia, fornisce un contributo alle famiglie che hanno dovuto sostenere dei costi bancari, cioè che hanno dovuto fare mutui per sostenere i costi dell'adozione e la Regione rimborsa gli interessi con un contributo che naturalmente può variare da famiglia a famiglia. La Garante sta lavorando anche per potenziare l'intervento di supporto alle famiglie nella fase delicatissima del dopo adozione, anche perché essendosi alzata oltre i sei anni l'età media dei minori in arrivo in Italia, spesso il loro ingresso nella famiglia adottiva coincide con l'ingresso a scuola, quindi i genitori hanno bisogno di un aiuto specifico proprio sul fronte scolastico. La Regione, anche su sollecitazione forte direi del Garante, durato un annetto, assieme all'ufficio scolastico regionale stanno approntando delle linee guida da offrire alle scuole di ogni ordine e grado proprio per accogliere nel miglior modo possibile questi bambini che vengono dall'estero ma non sono stranieri, mentre invece nelle nostre scuole ancora molto si confonde tra bambino straniero e bambino straniero ma adottato quindi italiano a tutti gli effetti. Il secondo livello di intervento riguarda gli adolescenti adottati, che sono tanti. Il boom delle adozioni internazionali in Toscana come in Italia c'è stato negli anni immediatamente successivi all'approvazione della legge 2001, 2002, 2003, che allora arrivarono bambini ora sono adolescenti e questi sommano alle difficoltà dell'adolescenza che hanno tutti spesso le difficoltà dello sradicamento, dello straniamento e quindi in quel caso vanno spesso aiutati loro ma vanno aiutati famiglie ed educatori a sostenere le loro difficoltà. E adesso sentiamo un'esperienza diretta. Mariella Scateni e Adriano Di Sisto sono una coppia di coniugi che ha due figli adottivi. Io e mio marito avevamo un grande desiderio di maternità e paternità e di avere una famiglia numerosa e abbiamo adottato due bimbi, il primo con un'adozione nazionale nel 2007 e quest'anno il nostro secondo figlio con un'adozione internazionale e siamo stati in Peru. Sicuramente se di difficoltà si può parlare, l'aspetto burocratico di tutti i fogli da preparare sia prima per la disponibilità all'adozione che poi per il paese e tutti i documenti, solo questo. La ricerca dell'ente successivamente al decreto, quella ci ha dato un po' di difficoltà perché avendo già un bimbo adottato e con il vincolo della primogenitura molti enti fanno resistenza ad accogliere famiglie che hanno già bimbi piccoli perché adesso nell'adozione internazionale si parla sempre di bimbi abbastanza grandi. Ma alla fine, quando il figlio adottivo è arrivato, che cosa resta di tutto questo percorso? Sicuramente è un percorso lungo e ha delle piccole criticità. Chiaramente noi abbiamo cercato di affrontarle una alla volta e anche con abbastanza serenità nel senso sapendo che comunque è un percorso che ci stava conducendo a nostro figlio. Quindi, visto alla luce dei fatti e quindi adesso, sono tutte cose superabilissime e anche il tempo trascorso sembra irrilevante rispetto al fatto di poter stare oggi con il nostro figlio. Mentre lo fai, l'attesa del figlio è grande e quindi le cose ti sembrano tutte di ostacolo nel cammino che stai facendo. Grazie a tutti!